meno 0,66 per piazza affari un ottimismo che va ritrovato anche attraverso iniziative come quella di cui vi parliamo adesso con venti, ville, splendidi palazzi che giacevano in stato di degrado e di abbandono riportati alla vita e che adesso producono anche fatturato Laura Cerallo bellezze d'Italia rinascono da strutture degradate al resort 5 stelle è il risultato della collaborazione tra pubblico e privato alla base del progetto Valore Paese di More lanciato dall'Agenzia del Demanio lo Stato, il più grande proprietario di immobili in Italia 425 miliardi di euro, il valore stimato secondo l'ultimo inventario del tesoro affitta per 50 anni i suoi gioielli ai privati che si impegnano a recuperare il bene valorizzarlo e trasformarlo in una struttura turistica di alto livello Villa Tolomei, sulle colline di Firenze, è il biglietto da visita della prima operazione andata a buon fine nel 2007 il bando di gara, nel 2008 l'assegnazione della concessione dal 2009 ad oggi i lavori di restauro oltre 7 milioni l'investimento per trasformare questo ex convento del 700 in resort di lusso in questi scatti lo stato di abbandono dell'edificio volte crollate a freschi nascosti ecco come oggi è stata una bella scommessa e un bel progetto un progetto entusiasmante è il primo progetto che si realizza in Italia a cura dell'Agenzia del Demanio io mi auguro che ce ne siano molti altri la lista dei gioielli di stato è lunga e variegata 115 le strutture già individuate per 63 i progetti di valorizzazione sono in fase avanzata ma l'elenco può aumentare c'è il castello Orsini di Soriano del Cimino l'ex dogana vecchia di Molfetta e un complesso di caserme a Peschiera del Garda la caserma 30 maggio a Peschiera del Garda nasce originariamente come ospedale nel 1865 a prova di bomba da notare appunto lo spessore delle mura poi è stato trasformato in un carcere militare presto potrebbe diventare un albergo a 5 stelle più difficile il recupero dello storico carcere borbonico sull'isola di Santo Stefano di fronte a Ventotene mentre è già realtà il faro di capo spartivento a sud di Cagliari da un rudere è nato un piccolo angolo di romanticismo con sei suite di lusso a picco sul mare a proposito